Disse. È una cosa pericolosa. E perché mai un genitore dovrebbe spingere la sua unica figlia a fare qualcosa di pericoloso? Forse perché ne vale la pena? Domandò Nina. Era l'unica risposta che era riuscita a darsi. Ogni volta che avevano parlato del motivo di quell'incontro, sua mamma si era fatta misteriosa, sbrigativa. La sua famosa precisione sul lavoro e la sua unipresente pianificazione avevano vacillato. Si era fatta sfocata, impalpabile, come la polvere che avvolgeva quella stanza. Perché ne vale la pena? Già, ripetì allora l'uomo. Così dicono. Per questo passano sempre l'indirizzo. Nina drizzò la schiena. Mamma mi ha detto che non devo per forza accettare il suo invito. È vero, disse l'uomo, ma prima io devo fartelo. Posso chiederle una cosa? Certo che puoi, ma non è detto che io ti risponda. Cosa ci guadagna? Oh, rispose l'uomo, è una buona domanda. Nina prese fiato perché le sembrava di respirare inchiostro. Le dita dell'uomo tamburellarono sul bracciolo. Cosa ci guadagno a mostrarti i segreti dell'arte e a restare a guardare se ne afferri almeno uno? C'è chi ne ha presi di più, domandò Nina, interrompendolo di nuovo. Ah sì, rispose l'uomo. Dipende da cosa sei disposto a sfidare, come si dice, tra me e te. Temo di non sapere nemmeno chi è lei, sussurrò Nina. L'uomo ignorò la domanda e disse, per cercare di afferrare un mistero dell'arte, sfiderai l'amore. Se ne afferri due, sfiderai gli amici e la società. Tre, la tua salute. Quattro, la pazia. Cinque, la morte. E sei? Domandò la ragazzina. Nessuno ne ha mai dominati più di cinque. Adesso sembra davvero pericoloso, ma bellissimo. Cosa c'è di bellissimo? L'arte e la sfida a se stessi, rispose l'uomo. Cos'altro vale la pena tentare di più? Ora sei pronta o hai ancora domande? Nina annui, nel senso che era pronta. Vuoi che Mercurio ti mostri i nove misteri dell'arte? Le chiese l'uomo. Nina prese un bel respiro. Tutto il suo essere, le sue convinzioni, i suoi sogni, le sue piccole conoscenze, le sue risate, i suoi dubbi, vorticavano intorno a lei. Quello strano uomo, per farle l'invito, si era sporto nella sua direzione e adesso a Nina sembrò che avesse il volto coperto di piume e un lungo becco al posto del naso. Con uno sforzo grandissimo smise di guardarlo e fissò invece la punta delle sue scarpe nella polvere di luce. E appena le sembrò di aver trovato un filo di coraggio per rispondere, disse tutto da un fiato, solo se posso portare due amici con me. Ecco fatto, pensò. L'aveva chiesto. Le rispose il silenzio. Un silenzio di aria viziata e piume, di angoli bui e screpolature nella poltrona. «Questa è bella», disse poi l'uomo. «Questa è proprio bella». Nina riuscì a sollevare lo sguardo, appena appena. «Ti offro di viaggiare alla scoperta dei più grandi segreti dell'arte e tu vorresti andarci con due amici», domandò l'uomo chiamato Mercurio, chiunque fosse. «Se sono segreti così importanti, meglio se li conoscono due persone in più, no?» «Non era questa l'intenzione», continuò l'uomo. «Da che mondo e mondo i grandi artisti hanno lavorato da soli?» «Forse è per questo che nessuno è mai andato oltre a cinque», replicò Nina. «È la tua risposta, Nina Pabst?» domandò l'uomo dal profilo d'uccello. La ragazzina annui, fissandolo di nuovo in pace con se stessa, di nuovo tranquilla. «E sia», disse Mercurio, «inizieremo questa notte nella sala di Giove, con la tempesta». Nina guardò il cielo sereno attraverso la finestra. «Non c'è nessuna tempesta», disse. «Oh, ti sbagli, piccola mia. Cessa». «Sempre una tempesta», rispose lui, alzandosi in piedi con un frullo d'ali. Capitolo 2 Degli amici «Ma quale tempesta, scusa?» sbottò Lorenzo Bacci, la sua bella faccia contratta in una smorfia. «Non lo vedi che sole che c'è?» «Certo che lo vedo e lo sento», rispose Nina. «E non so spiegartelo meglio di così. Questa sera, vieni oppure no?» Lui fece impennare lo skateboard con un colpo di tallone e poi ci si appoggiò, mollemente, atteggiato come certe statue di Apollo accanto al ceppo di vite che le sorregge. A volte Lori era davvero così bello. «Mi stai prendendo in giro, vero?» le domandò. «No, ti sto invitando. Prendere o lasciare? Questa sera porta sul retro della Galleria Palatina. Mi stai dicendo qualcosa che non riesco bene a capire?» «È molto possibile». A volte Lori era davvero così duro di comprendonio. Erano fermi nel bel mezzo di via dell'albero e lasciavano che i turisti li schivassero. Lori era di ritorno da un'esibizione di skateboard in provincia e lei era andata a recuperarlo alla stazione. Dato che non si era vantato di aver stracciato gli avversari, con tutta probabilità non aveva vinto. Lo conosceva meglio di quanto era disposta ad ammettere. «Mi stai invitando questa sera, tu e io da soli, per una tempesta?» Nina sorrise. «Eccolo qui, il solito seduttore da quattro soldi. Non ci siamo capiti Lori. Ci sarà anche Jamal». «Ah, e perché?» «Perché ho invitato anche lui. Esattamente come sto facendo adesso con te. Hai invitato prima lui. E non si è fatto pregare per tutto il tragitto prima di darmi una risposta?» «Non mi sto facendo pregare». «No?» Lui indicò le vie del centro intorno a loro. Decine di persone passeggiavano su quelle strade ricche di storia, la maggior parte con un telefono in mano, pronta a immortalare il panorama o se stessi. Con una predilezione per se stessi. Nina non avrebbe mai compreso quel livello di narcisismo e di certo non sopportava quello del suo amico. Ma Lori riprese a parlare con un sorriso che avrebbe addolcito Lucrezia Borgia. «Stavamo facendo lo stesso tragitto e cercavo solo di essere cortese». Nina incrociò le braccia. «Ah, davvero? Ti pare di no?» fece lui rimettendo giù lo skateboard. «Te l'hanno mai detto, Lorenzo Baci?» «Almeno cento volte», rispose lui senza lasciarle nemmeno il tempo di finire. Siede ad una spinta e via. «Ok, allora, alle otto questa sera, un attimo prima che scoppi...» e a questo punto tracciò nell'aria due vistose virgolette. «La tempesta». Nina strinse i pugni, gliene mostrò uno, ma in realtà era contenta. Certo, se solo avesse avuto qualcosa da lanciargli, qualunque cosa, lo avrebbe fatto. E lo avrebbe anche colpito, perché Lorenzo si era fermato di nuovo, come se avesse dimenticato qualcosa o visto un fantasma. Nina lo raggiunse. Lui guardava fisso davanti a sé, sorridendo. «Cosa?» gli domandò. «Vedi che dovevamo fare lo stesso tragitto?» Al che lei lo colpì davvero e Lorenzo si lasciò colpire, divertito dal suo stesso giochetto. Appoggiò la schiena al muro e la fece sbilanciare e, a quel punto, sostenendola in equilibrio su di sé, le domandò. «Perché Nina l'hai chiesto prima a Jamal?» «Stupido! Perché?» A Nina partì veloce il cuore e non voleva che Lori se ne accorgesse. Ci aveva pensato per una quantità di tempo spaventosa, a chi dirlo per primo. E la verità era che si era vergognata di chiederlo prima a Lori. Di chiedere cosa poi esattamente. Se lui le avesse risposto di sì, se le avesse detto ok a vedersi di notte, da soli, alla galleria Palatina, l'avrebbe chiesto anche a Jamal. Avrebbe mandato in fumo i suoi programmi, nonché la misteriosa apparizione che le era stata annunciata dall'uomo che abitava nella torre. Ritenne fosse meglio sorvolare e si limitò a rifilare a Lori una ginocchiata. Lieve, ma ben assestata. Lui mollò la presa. Lei si diede un contegno. «Alle otto, cuore infranto». Lori continuava a sorridere ed era un sorriso talmente partecipe e vicino da risultare fastidioso. «Porto un ombrello grande». Si divisero. Lori verso Via Ghibellina e Nina verso Palazzo Pitti, verso la galleria, l'ufficio di sua madre, con una serie di mezze domande e di altrettante mezze risposte, che non necessariamente avrebbero combaciato. Ma decisamente felice. Jamal Mahfouz stava caricando foto di piante assortite sul profilo Instagram del negozio I Fiori di Latifa da meno di 5 minuti. E non ne poteva già più. La bottega di Via Romana, di proprietà dei suoi genitori e specializzata nella vendita di fiori di ogni tipo, era il posto in cui passava in assoluto il tempo peggio speso della sua vita. C'era sempre una consegna da fare, un ordine online da controllare o ancora